Concentrati! Devi concentrarti! Concentrati sul tuo respiro! Ehi, là! Ehi! Riesci a sentirmi? Sono qui! Chi è? Ti stai impegnando molto. Invece, i tuoi amici si sono arresi subito. Non ti fa sentire un po' solo? Per niente, perché una volta che avrò imparato, potrò insegnarlo anche agli altri. Hai proprio un'anima pura, non è vero? Ecco, mi chiedevo perché tu ci avessi portati tutti in questo posto. L'esistenza di Nezuko è stata ufficialmente riconosciuta. E voi eravate gravemente feriti. Inoltre, vorrei che fossi tu ad ereditare il mio sogno, Tanjiro. Sogno? Sì! Vorrei poter essere amica dei demoni. Sento che tu sei la persona giusta! Sei arrabbiata? Non capisco perché, ma su di te colgo sempre un odore arrabbiato. Nonostante il tuo sorriso. È proprio così. Immagino si possa dire che io provi una rabbia incessante. È così sin da quando mia sorella è stata trucidata da un demone. Ogni volta che colgo lacrime sui volti di chi ha perso i propri cari a causa loro. O che odo urla di disperazione. La furia non fa che crescere in me inesorabile. E si accumula. Celato negli antri del mio cuore, c'è un disgusto che non so sopprimere. Anche gli altri pilastri condividono questo sentimento. Ma Nezuko, che seppure sia un demone e mai ha divorato un essere umano, è ora diventata un'eccezione. Con gli ordini diretti del capo famiglia, nessuno di noi userà sfiorarla. Mia sorella aveva un cuore gentile come il tuo. Provava compassione per i demoni. Persino in punto di morte non ha potuto che provare pietà per loro. Ma io non ci sono mai riuscita. Come puoi dispiacerti per chi toglie la vita? L'ho sempre trovato ridicolo. Ma questi erano i suoi sentimenti. E io ho deciso di farmene carico. Nel caso esista un metodo per non uccidere i demoni, volevo essere io a scoprirlo. E nel proseguire la mia ricerca, mai ho abbandonato il sorriso che lei amava. Kanai! 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 Però inizio... ad essere stanca. I demoni non fanno che mentire. Barattano la loro ragione per la sopravvivenza. Non esitano nel seguire l'istinto omicida. Tanjiro, fai tutto ciò che è in tuo potere. Proteggi Nezuko con ogni mezzo, fino alla fine. Il solo sapere che sei in grado di farlo al posto mio mi rende serena. Sento di poter riposare. La tua concentrazione del respiro totale si è arrestata. Farò del mio meglio. Farò del mio magnesio. Grazie.